Ciao, mi chiamo Amin Fara, sono un 3D artist e co-fondatore di The Black Lab Studio. Nella mia carriera ho collaborato con brand di ogni tipo, dal settore tecnologico alla moda, come Maxon e Avidas. Il fashion design per me è l'espressione massima di stile, oltre che una grande ispirazione per sperimentare nuove tecniche 3D, nuove geometrie e pattern. Lavorando con Marvelous Designer abbiamo la possibilità di modellare e cucire abiti in 3D, aggiungendo ogni sorta di dettaglio, con un processo molto simile alla modellistica e alla sartoria tradizionale. Il 3D ti permette di materializzare con qualità fotorealistica qualsiasi cosa tu possa immaginare, senza limiti. In questo corso di domestica scoprirai il mondo del 3D digital fashion. Useremo Marvelous Designer e Cinema 4D per creare immagini di moda digitale, con un'alta resa fotografica grazie a Optane Render. Per il progetto finale disegnerai un abito in 3D ispirato al brand che preferisci, partendo da un personaggio Daz 3D che ti fornirò io. Prima ti mostrerò brevemente come funzionano i diversi software su cui lavoreremo e come ho imparato a farli comunicare in modo ottimale. Creeremo una mood board per definire il tuo concept e insieme realizzeremo il cartamodello dell'abito su Marvelous Designer. Tracceremo e cuciremo il capo in 2D per poi scegliere la posa del personaggio e definire il fitting ottimale dell'abito in 3D. Quindi ci dedicheremo alla composizione della scena finale, importando i modelli Daz 3D e Marvelous Designer in Cinema 4D e lavorando su camera e luce. Inoltre ti mostrerò come texturizzare il personaggio e i tessuti, condividendo con te risorse e conoscenze che ho maturato negli anni. Passeremo poi alla post-produzione con Photoshop. Alla fine del corso avrai appreso un nuovo flusso di progetto e tecniche professionali per creare le tue immagini di moda 3D con qualità fotorealistica. Per seguire le lezioni avrai bisogno di una conoscenza base di Marvelous Designer, Cinema 4D e Octane Render. Dai forma alla tua idea di stile ed entra con me nel mondo del 3D Fashion Design. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti